Acqua e sapone da record, non ha vittoria consecutiva, mai tanti successi di fila. La squadra di Massimiliano Bellarte ha battuto l'Agnene 6-1 il verdetto finale. Troppa differenza, equilibrio solo nella prima frazione. Vantaggio nero-azzurro di Avellino, pari laziale di Villalva. Prima dell'intervallo però Murilo riporta avanti i suoi, ripresa senza storia. Agnene in belle, travolta dalle reti realizzate in sequenza dagli esulito Calderolli Murilo, autore dunque di una doppietta, è Cocco Wellington. La vera notizia, a secco il capo cannoniere dell'Acqua e sapone, Gaio Ghì, che finora ha realizzato 17 gol. In classifica l'Acqua e sapone Unigross resta seconda alle spalle della capolista Pesaro, che si è imposta facilmente sul Real Arzignano. Squadre divise da una sola lunghezza, 45 Pesaro, 44 Acqua e sapone. Venerdì, impegno di Latina con inizio alle 20.30. Serata positiva anche per la Colormax Pescara. Corsara sul campo del Lido di Ostia, match piacevole, incerto. Punto a punto, Mazzocchetti super a fare la differenza nel finale. La doppietta dell'intramontabile Dudu Morgado. Due gol anche per Dallonder. Una rete a testa per Wenu e Ferraioli. 22 punti in classifica per la Colormax di Saverio Palusci. Meno 6 dalla zona playoff su tutti i campi. Un minuto di raccoglimento per ricordare lo sfortunatissimo portiere di varie squadre abruzzesi, Antonio Capuozzo.